Grazie a tutti. 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 Buono. 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 45 non ti buttare avanti subito i gomiti subito i gomiti 47 48 una calma definita su ogni ripetizione deve essere perfetta 49 50 è finito 51 stabilizzare sopra sopra stabili dai che andate 52 veloce col bacino vai vai su 53 bravo vai 54 vai vai l'ultimo vai a 52 su vai vai 大丈夫 hai 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 Grazie.